Buongiorno cari studenti. Iniziamo la nostra gita scolastica stasera. Sì Marcus? Dove andiamo di nuovo? Andiamo al Flincatol. Sì Marcus? Perché non andiamo in Croazia? Gli altri vanno in Croazia. Perché lo dico io? Ma abbiamo pagato anche 300 euro. Perché il viaggio è così costoso? Devo organizzare nuovamente la gita scolastica. Tutti i miei giorni di vacanza sono sprecati. E devo spendere 300 euro. Aspetta un attimo, questo è un viaggio per 50 euro. Quindi posso guadagnare 250 euro per studente. Quei soldi andranno nel mio salvadanaio Lamborghini. Tra 30 anni potrò finalmente permettermi la Lambo. 300 euro per un viaggio del genere sono un vero affare, Marcus. Ehi fratello, che succede? Chi c'è? E perché mi chiami fratello? Non riconosci la mia voce, fratello? Basta con il fratello. Ok fratello. Dove hai trovato il mio numero? Voglio vederti fratello. Dove e quando? Voglio vederti fratello. Ok, ci sarò. Ci vediamo fratello. Non vedi l'ora di andare in gita scolastica? Sì, sarà bello. Voglio andare in Croazia. Possiamo organizzare feste segrete. Dov'è il ragazzo? Prima mi chiama dal nulla. Allora è in ritardo. S.H.H. Martin, sono qui. Dove non posso vederti. Vieni da me fratello. Quante volte ancora? Non sono tuo fratello. Hai impacchettato tutto, Lisa? Sì, ho quasi finito. Ricordati di portare abbastanza vestiti. Sì, lo farò. Perché vieni nella mia stanza? Puoi andare adesso. Ok, ci vediamo dopo. Ora posso mettere in valigia le mie cose segrete. È bello averti qui fratello. Chi sei? Dici sul serio? Sì. Chi diavolo sei? Non mi riconosci? No. Dimmi solo chi sei. Il tuo migliore amico. Leon? Dov'è il signor Kunze? Non è mai in ritardo. Entrate tutti, per favore. Quanto tempo ci vuole? Non sono affari tuoi. Sali subito. Ok, signor Kunze. Marie, guarda chi c'è. Leon, non ti vedo da secoli. Cosa stai facendo qui? Leon è a Monaco per qualche giorno. Stavo per prenotare un hotel. Ma gli ho detto di restare con noi. C'è sempre spazio per il mio ex migliore fratello. Grazie Martin. Grazie Martin. Sei ancora il miglior coinquilino. Leon, ti preparo il letto. Puoi venire con me per un minuto? Sì, Marie. Siamo arrivati. Dobbiamo andare a piedi da qui. Dov'è questo castello? Lassù sulla montagna. Dobbiamo camminare fino in cima? Non comportarti così adesso. Non è neanche così lontano. Voglio ancora andare in Croazia. Non succederà, Marcus. Ora inizia a camminare. Perché sei venuto davvero qui? Non ti sono mancata, Marie? Abbiamo detto che lo avremmo fermato. L'hai detto tu. Volevo andare avanti. Penso che abbiamo perso la strada. Ci deve essere un passaggio qui da qualche parte. Che cos'era quello? Voglio tornare a casa. Andremo semplicemente laggiù. Penso che sia la direzione giusta. Cosa stai facendo? Lo vuoi anche tu, Marie. Lo so. Cosa vuole anche Marie? Anche lei vuole del sushi per cena. Oh sì, il sushi è un'ottima idea. Ce ne prendo un po'. Cosa, vuoi andare? Torno subito, Marie. Abbiamo ragione. Dobbiamo davvero affrontare tutto questo? Sì, non vedi il cartello? Perché non siamo in Croazia? Sei davvero ingrato? Vieni adesso. Martin non è qui. Ora è il momento perfetto, Marie. No, non lo faccio. Dai, ancora una volta. Fermati subito. Voglio che tu ti fermi. Proprio come ai vecchi tempi. Siamo arrivati. Il castello ha un bel aspetto. Sì, molto meglio della Croazia. Martin non lo saprà. È un incubo. Deve andarsene immediatamente. Martin non lo saprà. Te lo prometto. Non un altro passo. Cosa stai facendo veramente qui? Ancora una volta Marie. Dopo me ne andrò. Assolutamente no. Sì. Altrimenti, dirò a Martin il nostro segreto. Hai un segreto? Stiamo organizzando una festa a sorpresa. Sì, per il tuo compleanno. Sei il migliore. Non ho promesso troppo. Sembra fantastico qui. Salve. Lei deve essere il signor Kunze. Sì, è vero. Benvenuto nel nostro castello. Non dimenticherai mai il tuo tempo qui. Sì, te lo prometto. Possiamo andare nelle nostre camere? Sì, anche gli altri sono già lì. Le altre? È la tua stanza. Ok, grazie. Che cos'era quello? Ho dovuto dedicare la stanza. C'è solo una regola. In nessun caso dovreste lasciare la camera dopo le 22. L'hai capito? Perché no? Fatelo e basta. Ok, Hagrid. E come ti piace? La stanza fa schifo. Perché pensi che il viaggio costi solo 50 euro? Ma abbiamo pagato 300 euro. Ci vediamo al piano di sotto tra 20 minuti. Poi ti mostrerò il resto del castello. È molto importante, non lasciare la stanza dopo le 22. Il sushi ha un ottimo sapore. Grazie Martin. È un piacere. L'ho raccolto io stesso. L'ultima volta che ho mangiato sushi è stato a Tokyo. Quando sei stato a Tokyo? L'anno scorso a ottobre. Ehi, in quel periodo anche tu eri a Tokyo Marie. Che coincidenza. Sì, giusto, che coincidenza. Cosa stiamo facendo adesso, signor Kunze? Puoi andare in spiaggia. C'è una spiaggia qui? Sì, ma attenzione. Nessuno sa cosa c'è veramente in quell'acqua. Ottimo. Anche la spiaggia è gratuita. Altro per la mia banca Lamborghini. Ma non so nuotare. Indossa il costume da bagno. Stiamo andando in spiaggia. Capisci? Molto meglio della Croazia. Possiamo entrare in acqua? Sì, ma non troppo lontano. Voglio ancora vederti. Non dimenticare di usare la protezione solare. Altrimenti, ti scotterai. Anche tu, signor Kunze. Sono un uomo forte, Lisa. Non ho bisogno di creme solari. Ok, ci vediamo dopo. Ti serve altro Leon? Oh, hai tutto? Hai un altro spazzolino da denti per me? No, ma posso procurartene una. Devo solo andare in farmacia per un minuto. Grazie Martin. Ok, ti lascio sola con Marie. L'acqua è bella e calda. Sì, adoro le spiagge. Lisa, smettila. Perché allora? Siamo in acqua. Nessuno sente niente. Sì, gli squali ne sentono l'odore. Cosa pensa stia facendo il signor Kunze in questo momento? Sono sicuro che sta leggendo un giornale. Oggi è tutto per te ragazza. Perché oggi compi 16 anni. Quindi ascoltami ragazza. Oggi, il mondo è intorno a te. Lisa, smettila subito. No. Fidati di me, gli squali se ne accorgono. L'hai sentito? No, cosa c'era? Penso che qualcuno abbia scoreggiato. Davvero adesso? Sì, c'è gente lassù. Sì, hai ragione. Dobbiamo spaventarli. Sì, altrimenti tutto il nostro appartamento puzza. Oh cavolo, adoro questa canzone. Potrei ascoltarlo tutto il giorno. Uh ciao. Lei è il signor Kunze? Sì, perché? Sono Johanna, l'insegnante dell'altra classe. Quale altra classe? Anche noi alloggiamo nel castello. Martin non è qui. È la mia occasione. Devo attaccare adesso. Adesso basta. Me ne torno in spiaggia. Rilassati Jonas. Non ci sono squali qui. Ti ha fatto male? Cosa? Beh, quando sei caduto dal cielo. Davvero adesso? Questa linea è più antica di mia nonna. Se tu fossi una patata. Allora saresti una patata dolce. Ora devo andare. Ci vediamo dopo. Penso di essere innamorata. Tesoro, vado a farmi una doccia veloce. Torno subito. Oh mio Dio, c'è uno squalo. È quello che sto dicendo. Nuota più velocemente che puoi. Sono davvero stanco. Vado a sdraiarmi per un minuto. Lo squalo si avvicina. Signor Kunze, per favore, ci aiuti. Speriamo che Leon se ne vada di nuovo presto. Non mi sento bene quando è in casa. Ai, ho un crampo. Lisa, cosa stai facendo? Non puoi fermarti. Non riesco a muovermi. Devi lasciarmi indietro. Fuggite, sciocchi. Ciao Marie. Leon, cosa stai facendo qui? Fare una doccia è stata una buona idea. Martin tornerà presto. Dobbiamo sbrigarci. Ciao Leon. Dove sei? Ho portato il tuo spazzolino da denti. Dov'è quel tipo? Ciao principessa. Wow, signor Kunze. È una bella Lamborghini. Hai voglia di fare un giro? Sì, certo. Signor Kunze, deve svegliarsi. Lisa è in pericolo. Pronto, signor Kunze? Dove stiamo andando? Ovunque tu voglia andare, tesoro. Svegliati. No, ti prego non farlo. Ancora cinque minuti. Ah! Svegliati, idiota. Che succede? Dove mi trovo? Lisa è tornata. Viene mangiata da uno squalo. Aiuto. Dobbiamo fare qualcosa. Oh mio Dio. Esci subito dal mio bagno. Dobbiamo sbrigarci, Marie. Martin sarà lì presto. Ciao Leon. Sei quassù? Ti ho comprato un dentifricio extra. Vedo Lisa. C'è davvero uno squalo? Devi fare qualcosa, in fretta. Cosa dovrei fare? Non ho scampo contro uno squalo. Non ne ho idea. Prova qualcosa. Aspetta, c'è qualcuno. Chi è? Non l'ho mai visto prima. Te ne vai adesso. In questo momento. Fai come ti dico. Oppure Martin scopre il nostro segreto. Penso che sto per svenire. Vattene da qui, squalo. O dovrai fare i conti con Jamal. Adesso basta. Prendi quello. Marie, cosa sta succedendo? Perché hai appena picchiato Leon? Sì, perché mi colpisci? Non ho più forze. Devo salvarla. Cosa sta succedendo? Lo squalo se n'è andato. Ma Lisa sta affondando. Aggrappati a me. Non posso farlo. Sì, puoi farlo, dai. Dobbiamo aiutarla. È incosciente. Forza Lisa, svegliati. Grazie Jamal. Mi hai salvato. Sono felice che tu stia bene. Avrei potuto farlo anche io. Comunque, chi è questo ragazzo? Quanto costa il viaggio? A, 100 euro. B, 200 euro. C, 300 euro. Lascia un commento.